buongiorno per ridurre la tensione muscolare che si accumula spesso nella zona del collo e delle spalle è utile fare esercizi di stretching della muscolatura accompagnati da una corretta respirazione ogni esercizio va ripetuto circa dieci volte ma si può iniziare anche con meno diciamo tre per poi aumentare gradualmente il numero di ripetizioni andrebbero fatti ogni giorno da soli e sempre prima degli esercizi per le braccia consiglio di eseguire gli esercizi davanti ad uno specchio in modo da verificare che il capo sia in posizione corretta se dovesse girare la testa durante l'esecuzione degli esercizi basta ridurre il numero di ripetizioni e o la velocità del movimento interrompete l'esercizio se il disturbo dovesse persistere partiamo con gli esercizi da sedute con la schiena dritta e piedi appoggiati a terra avvicina lentamente il mento allo sterno e poi sollevalo verso l'alto fin dove è possibile senza inarcare la schiena facciamo tre ripetizioni lascia pure che la bocca si apra quando vai indietro 1 2 3 adesso ruota lentamente il capo a sinistra e poi a destra senza alzare o abbassare il mento durante la rotazione 1 2 3 adesso passiamo alle rotazioni complete del capo disegna dei cerchi col mento parti col mento sulla spalla sinistra ed esegui tre rotazioni verso il basso 1 2 3 e adesso sempre partendo col mento sulla spalla sinistra esegui tre rotazioni verso l'alto 1 2 3 grazie dell'attenzione alla prossima ciao 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 Grazie per la visione!